allora piccole norme di regolamento prima di iniziare il cavaliere può scegliere indipendentemente se entrare a destra o a sinistra è ovvio che la mano con cui l'affronta è contraria a quella con cui esce quindi se entro a destra esco a sinistra se entro a sinistra esco a destra è libera la mano va bene 60 secondi la campana mano libera bene siamo pronti prima che la notte arrivi e crono campana grazie se Charlie mi dà l'ok ok Stefano ora i 60 secondi a te Stefano zero purtroppo il giudice mi dice che non non c'è possibilità quindi col numero 143 Paola Scarpin Stefano per favore fuori grazie e eccola qua MP Estusca con Paola Scarpin alias Dark Lady quindi anche per te 60 secondi quando vuoi zero purtroppo zero all'ultimo mi dicono no score purtroppo il salto di una palina si individua con questo gergo no score si prepari ora il binomio no score pompili anchise con luna by micor anchise eccolo anchise il suo cap nero il suo grigione facciamo un applauso anchise la tribuna per favore mi è un po' assente eh no la tribuna si sta rifiutando siamo in sciopero dai tribuna per favore tifo tribuna tribuna ed ecco anchise via che corre verso la fine 3 4 5 6 e via 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 ancora anchise all'ultimo giro chiude e go verso il traguardo e la tribuna finalmente si è scaldata e anchise chiude con il tempo di 27.63 finora il miglior tempo il primo un applauso per anchise anche la tribuna si è mossa per lui e il prossimo concorrente è domenico ciceroni su scaramantica non sappiamo è domenico ciceroni su scaramantica della tribuna e Domenico Algo verso l'arrivo la tribuna lo sostiene taglie il treguardo con il tempo di 32 e 33 non riesce a bissare il miglior tempo che per ora rimane per Anchise e il suo cavallo bene, si prepari Massimiliano Rocchino su Nadir la tribuna tace per Massimiliano? no molto bene ringraziamo sempre l'uomo alla sbarra il cosiddetto uomo pulsante la mano che schiacciava il tasto rosso Francesca per favore go 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 per Massimiliano e Nadir al galoppo fino all'ultima palina e via uno e due e tre four five grande Massimiliano in linea retta verso l'ultima palina e go verso l'arrivo via Massimiliano ventitré ventiquattro ventisei ventisette e quarantasei c'è Carlos Carlos me lo dicevano io ho agito di impeto di quindi Carlos pronto la campana anche per te ti ricordo sessanta secondi dal momento in cui squillerà Carlos quando vuoi e go per Carlo gol al galoppo fino all'ultima palina e one e due aga e n'amo e tre e four and six the last run in the middle the finish and go all the galoppo it's go for Carlos finito anche per Carlos che chiude al tempo di 33.12 bene due minuti tempo di stirare la classifica e premeremo il pole ed il barrel grazie grazie